Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazioni inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. Sedicesimi di finale di Coppa Italia, Luigi Muzzi di Orvieto di fronte, l'Orvietana e l'Arezzo. Silvano Fiorucci rivoluziona la squadra, dando spazio a chi impiega meno in campionato. Stesso discorso per Paolo Indiani, che fa esordine tra i juniors da titolari. Prima ufficiale anche per Marricchi, tra i pali dai biancorossi, così come per i due nuovi arrivi della settimana. Guglielmo Mignani, attaccante, proveniente dal Poggi Bonsi, classe 2002. E l'esterno di sinistra, nel reparto difensivo, Gabriele Papale, classe 2004, proveniente dall'Ogliastra. Con loro Fiorucci, Schieraborgo e Siciliano in difesa, con Biancalana sull'esterno. Brondi, Proietti con la fascia da capitano e Rosini a centrocampo, davanti di Natale, fa coppia con Nicodemo e appunto Mignani. Per Indiani, che fa esordine Zupa, Scichilone, Stopponi, tutti classe 2005, propone viti tra i pali. Bruni e Castiglia, centrali di difesa. Demo e Foglia a centrocampo, con Bramante ad operare sul settore di destra, a supporto di Settembrini e Diallo, davanti. Che sarà a Garavera, ci si accorge subito, con gli amaranto pericolosi subito in avvio. Primo a Bramante, con il sinistro, impegna a terra Marricchi. Il portiere arvietano si supera poco dopo sulla bella conclusione a girare di Zupa dal limite. L'azione continua, ma Brondi si oppone a Stopponi. Il primo acuto arvietano è Di Mignani, che vince il duello con Bruni e si invola, ma in aria viene recuperato al momento del tiro e l'azione sfuma. Poco dopo, bravo Borgo su Diallo in chiusura, mentre Marricchi neutralizza tre minuti più tardi la conclusione di Bruni su azione d'angolo. Il portiere arvietano è bravo a rinviare subito per Mignani, che ancora una volta vince il duello con Castiglia, beffa Viti in uscita e realizza il gol del vantaggio dell'orvietana. È una gioia che però dura poco, passa in una manciata di secondi e Settembrini inventa per Stopponi, assista al bacio in aria per Foglia, che angola quanto basta per il meritato 1-1. Mignani ci prova anche in acrobazia sul cross di Borgo, ma è clamorosa l'occasione che qualche secondo dopo capita sui piedi di Proietti, che ruba palla a Bruni, ma la sua conclusione è neutralizzata da Viti. L'Arezzo continua a macinare il gioco, bella l'azione che nasce a sinistra, sull'asse Scichilone, Bramante e Zupa con conclusione di Bramante centrale para Marricchi. Il gol galvanizza Foglia, che ci prova anche con un'azione personale, tiro dal limite, attento ancora Marricchi a salvare in angolo. Dalla bandierina Bruni ancora lui, servito in mezzo, incolla alle stelle, una buona occasione. Ci prova anche Di Natale, che vince il duello con Scichilone a destra e c'entra per Mignani, che non ci arriva. Anche Papale, in chiusura di tempo, ci prova, ma il suo sinistro, in buona posizione, finisce abbondantemente alto. Un primo tempo divertente si conclude sull'1-1. Nella ripresa inizia il waltzer delle sostituzioni, comincia Indiani, che lascia Settembrini negli spogliatoi e propone Lazzarini in mezzo. Amaranto subito pericoloso in avvio di ripresa con Bramante, che ci prova con il destro fuori misura. L'orvietana risponde con l'ennesimo pallone rubato da Nicodemo, Mignani si inserisce, ma la sua conclusione è deviata in angolo. Buon momento per l'orvietana che ci riprova con Di Natale, che, servito da Proietti, mette in mezzo un pallone invitante, che Nicodemo non riesce a deviare in rete. La gara è piacevole e l'Arezzo risponde con Stopponi, che svetta di testa su angolo, senza centrare la porta. Entrano Zona e Tomassini, e l'orvietana crea con questo dialogo Brondi-Tomassini-Brondi una buona azione, senza fortuna. Allora Fiorucci prova le carte fra Botta e Guazzaroni, Indiene risponde con Pattarello ed il cambio porta i suoi frutti. È proprio il fantasista, con la casacca numero 10, che innesca Bramante a sinistra, controllo e destro angolato, su cui Marricchi non può nulla, è l'uno e il gol dell'uno a due. Fiorucci si gioca anche la carta tra Oree, e i biancorossi confezionano un'altra potenziale azione offensiva con Tomassini, che serve Bracaletti appena entrato, ma il suo assist per Rosini è deviato in angolo da Castiglia. Ma è sul susseguente angolo che la scuola di Fiorucci è all'occasione del pari, ma Brondi non riesce ad angolare quanto basta, Viti ci arriva con la manona e salva il risultato. Il finale è tutto da seguire, con Bragaletti che sfiora il gol su punizione, ancora Viti a salvare in angolo. Dalla bandierina, Guazzaroni trova ancora Brondi, conclusione che finisce a Tomassini stoppato in aria. L'Arezzo soffre, ma sfiora la terza rete in contropiede con Diallo, che servito da pattarello, sperisce alto da buona posizione. Finisce 2-1 per l'Arezzo, che accede agli ottavi di finale, dove troverà la vincente tra Pineto e Tolentino. Pallone messo in mezzo per Diallo, Diallo in aria, conclusione alta. Silvano sicuramente soddisfatto, nonostante il passaggio del turno sia a favore dell'Arezzo. Hai detto una parola giustissima, non ho soddisfatto di più. Oggi ho visto una squadra vera, una squadra brillante, una squadra che ha giocato, una squadra che è andata in campo con sei ragazzi, non si è vista minimamente. Abbiamo fatto i cambi, i cambi hanno giocato altrettanto bene. Guarda, veramente, dispiace molto per l'uscita dalla Coppa Italia, però era più importante sapere di avere una squadra vera, una squadra viva, una squadra che darà tutto, che veramente è stata un'unione di intenti da parte della squadra oggi, una cosa incredibile. E sono contentissimo, non ho altre parole per dire, è stata una printa nettamente anche più brillante di quella domenica dove c'è stato il risultato, ma non certamente l'intensità di oggi, la voglia di vincere, ma tutti, se dovesse trovare un ragazzo che è andato, non c'è, non c'è, tutti, veramente, tanto di cappella a questi ragazzi, tanto, tanto di cappella. Molto bene anche i nuovi che hai buttato sulla, su Mignani e Papaglia. Perché, se no, sono giovani, devono avere, tutti, devi provare, andati bene, ma sono stati bene anche gli altri, che hanno giocato di meno, gli altri che hanno avuto delle problematiche, tutti, cioè non posso dire un giocatore di cui sono rimasto scontento, non ce n'è uno, quindi, tanto di cappello, siamo usciti, la mezza andrà avanti, faremo la trasferta in meno, quindi non è quello, però io ho avuto una risposta importante della squadra, nel calcio non si vince con gli undici, ma si vince con i 16, 17 giocatori, noi abbiamo anche ricambio, adesso come adesso veramente, sono contento, dai, se è inutile sta a ripetere, è stato un piacere, a tutti, e ci vediamo a Ciladri Castello, arrivederci. Allora, Ness, la Rezza fin dall'inizio ha preso seriamente la Coppa Italia, quindi ha giocato una partita seria anche oggi, pur ovviamente con tanti ragazzi in campo, e credo che le indicazioni positive sono nettamente superiori a quelle negative. Ma ci sono anche negative? Se ci sono anche negative, a me mi sembra che oggi sia tutto positivo, tutto positivo, ma è la partita presa nel modo giusto, abbiamo fatto esordire tre bambini nel 2005, tutti e tre molto bravi, questo testimonia di grandissimo lavoro che stanno facendo il settore giovanile, in special modo di unione, se stanno facendo un campionato straordinario, doppiamente contenti per il passaggio in turno, per l'esordio di questi bambini, e per l'impegno notevole di tutti quelli che sono andati in campo. Ma tutto positivo, diciamo, noi eravamo qui dietro, sei un po' arrabbiato con il dialogo durante la partita, questa era l'unica cosa che intendi. No, 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 assolutamente, volevo facersi altri movimenti, però assolutamente, tutti hanno dato il massimo, e un allenatore quando i giocatori danno il massimo, è sempre contento. Ecco, il 2005, ovviamente bene per tutti e tre, però per Stopponi forse vale una parola in più, perché per i colini, lì con la partenza di Lorenzini, non avrebbe il sostituto, Stopponi, pur essendo il mercito, forse è già pronto anche per fare questo ruolo. Forse, sì, purtroppo io l'ho conosciuto da dieci giorni, da dieci giorni, è venuto alle Nazioni, con noi per la prima volta dieci giorni fa, e sta dimostrando essere bravo, però da qui ancora a dire che siamo pronti, e contentiamoci di un passo per volta, ma non direi solo noi, anche gli altri due si andava molto bene, anche l'attaccante, scelgione un po' meno, perché non si sa nemmeno se quello forse è il suo ruolo, ma anche l'attaccante è andato molto bene.